Ciao e bentornati a Crochet Romance. Oggi andiamo a realizzare la sciarpa coda di drago con il punto nocciolina nei bordi. Questo video è un progetto speciale perché è in collaborazione con il canale YouTube Black Sheep Wool Art. È il canale della mia amica Emanuela e vi invito ad iscrivervi anche al suo canale perché fa dei tutorial molto interessanti. A me piacciono soprattutto i suoi video di recensione filati perché lei è una persona molto curiosa e ama sperimentare anche siti nuovi e quindi magari prendere lane o cotoni che non si vedono tutti i giorni. Infatti ha trovato anche della lana di cammello molto molto bella. Quindi detto questo iscrivetevi anche al suo canale e se siete venuti qui venendo dal canale di Emanuela iscrivetevi anche al mio canale se volete continuare a seguire anche me. Allora questa sciarpa è una sciarpa che parte da una punta e poi va ad allargarsi sempre di più e ha una forma molto curvata come avrete visto nelle foto di anteprima. Io in questo tutorial vi spiegherò praticamente le prime dodici righe così vedete la lavorazione e la parte che andrà ripetuta sono sempre le righe 6 a 12. Quindi vi faccio vedere l'inizio così prendete la mano e poi vi faccio vedere le righe 6 a 12 che poi dovrete andare a ripetere per tutta la lavorazione della sciarpa. Questo tutorial è per Mancini quindi se volete seguire il tutorial per la mano destra vi lascio il link sotto nell'info box e lo troverete nel canale di Black Sheep Wool Art. Vi faccio vedere la lavorazione con un filato diverso perché questo mi è finito è il filato Moher Magic di Francesca Italia Artisan. Troverete il link all'acquisto anche nell'info box. Io vi faccio vedere quindi il campione con questo piccolo filato. Bene, passiamo subito al tutorial. Utilizzo l'uncinetto da 4 mm e per fare tutta la sciarpa ho utilizzato due gommitoli del Moher Magic. Iniziamo con un'asola d'avvio e lavoriamo quattro catenelle. Uno, due, tre e quattro. E poi ritorniamo nella prima catenella e lavoriamo tre maglie alte. Una, due e tre. Adesso ritorniamo nuovamente nella prima catenella che abbiamo fatto e lavoriamo altre quattro maglie alte che saranno chiuse in un punto nocciolina. quindi entro qua e faccio altre quattro maglie alte. Una, due, tre e quattro. Ora chiudo queste maglie in un punto nocciolina per fare questo sfilo l'uncinetto. Vado a trovarmi la prima maglia alta di queste quattro maglie alte, entro da davanti verso dietro, riprendo il filo e lo porto sul davanti. E poi faccio una maglia bassissima per chiudere. E abbiamo fatto il nostro punto nocciolina. E questa è già la prima riga. Facciamo la seconda riga. Tre catenelle, voltiamo il lavoro e nella prossima maglia alta lavoriamo una maglia alta. Poi facciamo una catenella di separazione e poi nella prossima maglia alta lavoriamo un aumento e cioè lavoreremo due maglia alta nella stessa maglia. Ecco fatto. Nella maglia seguente lavoriamo un altro aumento, quindi anche qui facciamo due maglia alte nella stessa maglia e poi facciamo una maglia alta nella e la terza catenella che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente. E questa è la seconda riga. Facciamo ora la riga numero 3. Tre catenelle, voltiamo il lavoro, nella maglia alta seguente lavoriamo un aumento, quindi due maglia alta nella maglia successiva facciamo una maglia alta nella maglia successiva un aumento, quindi due maglia alta. Ora facciamo una maglia alta nella maglia alta successiva e poi facciamo una catenella maglia di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta, quindi saltiamo questa catenella e lavoriamo una maglia alta nella maglia alta e terminiamo con un punto nocciolina, quindi entriamo nella terza catenella e lavoriamo quattro maglie alte 1, 2, 3, 4 e chiudiamo di nuovo il nostro punto nocciolina con una maglia bassissima. Questo è la terza riga. Facciamo ora la riga numero 4. Tre catenelle, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia alta sopra la maglia alta, una catenella di separazione e poi lavoriamo maglie alte fino a quando ci rimangono solo quattro maglie libere prima della fine della riga, quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, un'altra maglia alta devo farla. Ok. Adesso mi sono rimasti ancora quattro punti liberi fino a prima della fine della riga che sono le tre maglie alte e le tre catenelle. Adesso vedrete la ripetizione del motivo, quindi su questi quattro punti dobbiamo sempre lavorare nel seguente modo. Facciamo un aumento, poi una maglia alta semplice, poi un altro aumento, e terminiamo con una maglia alta sopra la terza catenella. e questa è la quarta riga. Facciamo la riga numero 5. 3 catenelle, voltiamo il lavoro e ora lavoriamo di nuovo gli aumenti, quindi un aumento, una maglia alta semplice e un aumento. Quindi se notate abbiamo lavorato sia alla fine che all'inizio della riga degli aumenti, quindi quando ci troviamo alla fine della riga ci fermiamo quattro maglie prima della fine e lavoriamo un aumento, una maglia alta singola, un altro aumento e una maglia alta. Quando ci troviamo all'inizio di ogni riga lavoreremo 3 catenelle che sono in sostituzione di una maglia alta, poi un aumento, una maglia alta singola e un altro aumento. Fatto questo andiamo avanti a lavorare a maglie alte, fino a quando ci ritroviamo la catenella. ok, qua ho la catenella di separazione, faccio una catenella e poi concludo con una maglia alta e un punto nocciolina. Per il punto nocciolina io uso quattro maglie alte, però se volete potete fare anche da cinque o sei maglie alte, dipende di quanto lo volete, evidente. allora, quattro maglie alte e chiudiamo il punto nocciolina. per la riga numero 6 facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia alta nella maglia alta, poi facciamo una maglia alta anche attorno alla catenella e qua il giro numero 6 si differenzia da tutti gli altri giri precedenti, quindi abbiamo lavorato anche una maglia alta qui. ora facciamo una maglia alta in ogni maglia, fino a quando abbiamo solo quattro maglie libere. ok, eccomi qui, alla fine della riga, devo fare ancora una maglia, ora, lavoro di nuovo un aumento, una maglia alta, un aumento, e una maglia alta, e questa è la riga numero 6. penso che avrete già capito un po' come si lavora, però adesso dobbiamo vedere solo come fare le punte a zigzag praticamente. vi faccio quindi vedere la lavorazione dalla riga numero 7 a 12 e che saranno le righe che dovete ripetere per tutta la lavorazione. la riga numero 7, la riga numero 9 e la riga numero 11 vengono lavorati nella stessa maniera, quindi 3 catenelle, un aumento, e poi lavoriamo a maglia alta, una maglia alta, un aumento, e poi lavoriamo a maglia alta fino a quando ci rimangono solo 9 maglie libere, prima della fine della riga, e questo creerà il nostro zigzag. allora, maglia alta, mettiamo un po', 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ok, qua adesso mi sono rimaste 9 maglie libere, a questo punto faccio una catenella di separazione, salto una maglia alta, lavoro una maglia alta nella maglia seguente e un punto nocciolina nella maglia successiva. e questo è la riga numero 7, ovviamente, nelle righe numero 9 e 11 andiamo a lavorare fino alla fine della riga, non ci fermeremo per fare lo scalino come abbiamo fatto qua. per poter ricontrollare contate le maglie alte vi dovrebbero rimanere 6 maglie alte libere a questo punto. ora facciamo la riga numero 8, 3 catenelle, 3 catenelle, voltiamo il lavoro, una maglia alta, una catenella di separazione, e poi lavoriamo maglie alte fino a quando ci rimangono solo quattro maglie libere. anche la riga numero 10 è uguale alla riga numero 8. quindi ancora una mi ritrovo a fine riga quasi, sono ancora quattro maglie libere e lavoro il mio solito aumento, maglia alta, aumento e maglia alta. quindi per la riga numero 9 lavoro come ho fatto per la riga numero 7 quindi 3 catenelle aumento maglia alta aumento e ora maglia alta fino alla fine della riga, fino a quando arriviamo al punto dove c'è la catenella. quando arrivata al punto della catenella facciamo anche qua una catenella, saltiamo la catenella, lavoriamo una maglia alta nella maglia alta e poi un punto nocciolina nell'ultimo punto nell'ultimo punto adesso adesso mi trovo già alla riga numero 11 a fine riga non vi ho fatto vedere dal principio la riga perché è identica alla riga numero 9 quindi quindi concludo con il mio punto nocciolina e poi facciamo l'ultima riga del motivo, la riga numero 12, 3 catenelle e poi poi lavoriamo una maglia alta e lavoriamo una maglia alta anche attorno alla catenella e poi una maglia alta fino alla fine della riga, ovviamente quattro maglie prima della fine lavoriamo di nuovo i nostri punti che sono un aumento, una maglia alta, un aumento e una maglia alta come abbiamo fatto per tutte le altre righe. quindi eccomi a fine della riga numero 12 come vedete è davvero facile e già si vede la forma arrotondata quello che dovete fare adesso è fare di nuovo la riga numero 7 quindi lavorerete il nostro motivo, vi fermate 9 maglie prima della fine e poi lavorate una catenella, una maglia alta, un punto nocciolina e a fine riga vi rimarranno 6 maglie alte libere e quindi vi si forma la prossima punta della nostra coda di drago molto probabilmente in base al filato che avete scelto per questo progetto potrebbe accadere che tenderà ad arrotolarsi il bordino non c'è nessun problema, l'ha fatto anche nel mio caso, però una volta che avete finito lo shawl lo posizionate in piano sul vostro asse da stiro e prendete il ferro da stiro mettete a vapore massimo e andate a svaporare tutti i bordi per fare questo però non toccate con il ferro da stiro direttamente la lana ma tenete il ferro da stiro a distanza di circa 5 cm e fate uscire il vapore come vedete il risultato è perfetto perché non si arrotola per niente e avrete lo shawl ben disteso senza tante fatiche questo è già tutto per il tutorial di oggi, io spero che vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mio Crochet Trumans e ovviamente anche al canale di Emanuela Black Sheep Wool Art e spero che vi sia piaciuta la collaborazione se è così fatemi sapere sotto al video in un commento e ci vediamo con tanti nuovi progetti prossimamente ciao